Al po' 1 e al po' 3 avanti avanti al po' 3, avanti al po' 3 avanti al po' 1 attenzione via l'occhio si 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 La cosa è che ti fa bene questa palla? Mercanel, che no? Ma la cosa è che io, va bene, la colata sta girando a te. E' l'Urallia, se tu è. No, se tu è l'Urallia. E' l'Urallia, si va bene. E' l'Urallia. E' l'Urallia. E' l'Urallia. E' l'Urallia. E' l'Urallia. E' l'Urallia. E' l'Urallia, ora! C'è un posto! E' un posto. E' un posto! Un posto! Urinia! Vieni Livre! Andare al giorno dopo ci sono avuto una pruga! Stai perché è un posto! ha girato meglio un muragno che era dietro e passato no, è passato davanti l'uragno no, è passato no, è passato no, è passato ma, è passato no, è passato no, è passato è passato Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Non è vero.